Con questo secondo panel vogliamo concentrarci un po' sull'Italia, capire chi siamo, quali sono le risorse, le competenze su cui possiamo contare per un eventuale ritorno al nucleare e dove stiamo andando. Allora, presento subito i nostri relatori. Abbiamo Francesca Salvemini, capo segreteria tecnica del Mase, Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, Guido Bortoni, presidente del Cesi, Giovanni Pasini, consigliere delegato di Feralpi Group, Paolo Arrigoni, presidente del GSE e Luigi Mazzocchi, direttore del Dipartimento Tecnologie di Generazione e Materiali di RSE. Io a partirei da Nicola Monti, amministratore delegato di Edison. Devo dire che nel primo panel si è parlato dello scenario globale, ma si è parlato direttamente e indirettamente anche dell'Italia. Ci fa un po' un quadro di quella che è la situazione italiana oggi? Quali sono le risorse dal punto di vista tecnico su cui possiamo contare, risorse anche dal punto di vista industriale, per rimettere in piedi? Io devo dire, forse per riassemblare una filiera che poi in realtà c'è già. Sì, le competenze nella filiera nucleare per fortuna si sono mantenute, a partire dalle competenze a livello universitario. Noi abbiamo non tantissime università che hanno ancora la facoltà di ingegneria nucleare, ma parlando con i docenti, la cosa interessante è che negli ultimi anni ci sono raddoppiate le iscrizioni. E anche dall'estero ci guardano come un terreno di competenze interessante. Vi faccio un esempio. Framatom, che è la società che fa l'ingegneria e la costruzione degli impianti nucleari in Francia, per conto di EDF, a settembre aprirà un ufficio a Milano e lo aprirà all'interno del Politecnico di Milano. Perché? Perché c'è bisogno di competenze. Il mercato delle competenze è corto un po' per tutti, devo dire, perché la transizione energetica ci obbliga a fare tanti investimenti. Qua parliamo di nucleare, ma la maggior parte degli investimenti in questo momento si stanno facendo nelle fonti rinnovabili, si fanno in innovazione, si fanno nell'efficienza energetica, in tante cose, ma anche per quanto riguarda il nucleare, il fatto che anche una grande industria proprio di ingegneria nucleare francese decida di aprire un ufficio in Italia è perché anche in prospettiva è poi di ritornare ad avere il nucleare in Italia, ma anche per recuperare delle competenze nel breve termine. E per quanto riguarda la manifattura abbiamo il saldo nucleare che è una società che lavora in tutto il mondo, tranne l'Italia, per ovvie ragioni, ma è una società che ha mantenuto le competenze. Ha la sua sede centrale a Genova, però poi ha altre sedi all'estero, in particolare in Inghilterra, e credo che abbia un portafoglio di ordini diversificato su varie tecnologie che spazia sia su impianti europei ma anche nel resto del mondo. Quindi è chiaro che questi sono gli embrioni di quello che ci serve per effettivamente andare a ricostruire a pieno una filiera che ci permetta poi di ingegnerizzare, costruire e poi esercire degli impianti. Ma ci mancano soprattutto, e queste sono da ricostruire purtroppo da zero, le competenze che servono nell'amministrazione pubblica o in chi deve ridefinire quelle che sono le regole, la normativa che serve per le certificazioni, per qualificare tecnologie, per poter approvare quelli che saranno i progetti che verranno presentati. Qui parliamo di competenze che riguardano centinaia di persone. È un percorso su cui c'è, credo, una consapevolezza da parte di tutti, e devo dire nel tavolo sul nuovo nucleare che è stato istituito nel MASE, uno dei capitoli proprio principali è quello delle competenze e della roadmap che serve per andare a ricostruire tutto quello che serve per poter avere la normativa adeguata per poter pensare che il nucleare non è solo un'opzione sulla carta, ma è un qualcosa che può essere realizzabile. Beh, devo dire, poi l'ingegnere Monti con grande eleganza non ha ricordato una cosa, che nel 2022, quando metà del parco nucleare francese si è fermato per problemi di corrosione, chi ha chiamato EDF per risolvere i problemi? Le aziende italiane. Le aziende italiane. Le aziende italiane di metallurgia sono le prime al mondo e già oggi vengono chiamate non solo dalla Francia per eseguire interventi, ma vengono chiamate in tutto il mondo. Quindi sì, abbiamo delle competenze spezzettate, perché gioco forza oggi queste industrie lavorano solo all'estero, ma io credo che sia un ottimo punto di partenza per veramente ricostruire tutte le capacità per realizzare in Italia. Grazie. Lei citava la piattaforma per il nucleare sostenibile del MASE. Noi abbiamo qua la dottoressa Salvemini. Come dire, quale persona migliore per aggiornarci su come procedono le cose? Allora, grazie. Allora, la piattaforma, come noto, è stata avviata dal Ministro a settembre ed ha appena concluso la fase di ricognizione, che era la prima fase. Diciamo, la durata della piattaforma è prevista per nove mesi, essendo partita poi, diciamo, in realtà a dicembre, chiuderà i suoi lavori probabilmente nel mese di settembre, però, diciamo, almeno alle conclusioni del gruppo 1, quindi quello degli scenari, come ha detto il Ministro peraltro l'altro giorno, il question time, saranno, diciamo, disponibili in tempo utile per essere inserite nell'aggiornamento finale del piano energie e clima che il Governo italiano presenterà alla fine del mese di giugno. Perché, come è noto, diciamo, la piattaforma è organizzata su sette gruppi di lavoro, l'ingegner Monti qui citava appunto la parte, il gruppo di lavoro, quello sulla formazione sul presidio delle competenze, in realtà che è uno di questi punti, sette gruppi di lavoro. Il primo gruppo si occupa di scenari ed è un gruppo molto importante perché, diciamo, l'orizzonte temporale su cui sta lavorando la piattaforma è non solo il 30, che è uno scenario molto vicino e molto probabilmente incompatibile con un qualunque, diciamo, rientro nucleare realistico, ma soprattutto il 40 e il 50. Questo è il mandato ricevuto dalla piattaforma. Cioè, in che ruolo può giocare la tecnologia nucleare per traghettare gli obiettivi che abbiamo di decarbonizzazione al 2050. Quindi questo è uno scenario importante, diciamo, un gruppo molto importante che lavora, diciamo, poi dopodiché ce lo rappresenteranno meglio qui al tavolo, che lavora in particolare sul comprendere come lo scenario senza il rinnovabile sia uno scenario fattibile e sostenibile da un punto di vista economico, sociale e ambientale, soprattutto, in che termini la tecnologia nucleare possa rafforzare il tema della sicurezza e gli approvvigionamenti, che non è un tema banale in questo momento. E quindi, diciamo, come rispetto a uno scenario senza il rinnovabile, al 2050 traghettiamo il NITZERO. Questo è il primo gruppo. C'è un secondo gruppo che è dedicato alla fissione e sta analizzando e mappando tutte le tecnologie, i progetti di tecnologie su cui, appunto, la ricerca sta lavorando e che, diciamo, adesso inizierà con l'alleanza industriale sugli SMR una fase, diciamo, molto importante. Peraltro anche, diciamo, come Ministero ci iscriviamo comunque alla piattaforma, all'alleanza nazionale per dare un segnale che comunque c'è un interesse molto forte da parte del Paese allo sviluppo della ricerca in queste nuove tecnologie. Poi c'è un gruppo 3 che si occupa di fusione. In America, ad esempio, quando parlano di fusione non dicono mai nucleare, dicono energia da fusione, per distinguere, appunto, le due cose. Un gruppo 4 che si occupa, appunto, che è preceduto da ISIN che è il rispettorato di sicurezza nazionale e che si occupa di mappare la parte proprio normativa cioè che cosa manca e che cosa bisogna fare per ricostituire un po' tutte quelle norme di riqualificazione di non solo di competenze ma anche di materiali, di tecnologie e c'è un gruppo 5 che si occupa di rifiuti un gruppo 6 che si occupa di formazione e un gruppo 7 che si occupa di accettabilità sociale e comunicazione. Questo è il lavoro della piattaforma come dicevo la piattaforma ha chiuso la fase di ricognizione adesso inizia la seconda fase che è quella proprio di creazione quindi di definizione di una traiettoria e di contenutisticamente di contenuti e chiuderà, appunto, a inizio settembre i suoi lavori. Grazie. Lei citava le rinnovabili. Il rapporto tra nucleari e rinnovabili è sicuramente un rapporto da approfondire. Vorrei avere l'opinione di Paolo Arrigoni presidente del GSE insomma voi siete deputati alla diffusione delle rinnovabili e dell'efficienza energetica in Italia quindi capire insomma non sono antitetici anzi possono essere sinergici. Sì, grazie per l'invito. Devo dire che la decarbonizzazione in primis e poi anche il garantire la sicurezza del sistema energetico rende il binomio rinnovabili e nucleare inevitabile, necessario. E quando questo binomio deve essere realizzato? Beh, l'emergenza climatica è in atto ora peraltro lo scorso anno le emissioni di CO2 a livello globale sono aumentate ulteriormente dell'1,1% quindi il fatto di rinnovabili il Paese sta crescendo c'è in corso una forte accelerazione lo scorso anno a fine di dicembre siamo arrivati ad avere una capacità installativa di rinnovabili di 67 gigawatt di cui 30 di fotovoltaico solo nel 2023 abbiamo installato quasi 6 gigawatt in particolare fotovoltaico siamo arrivati ad avere oltre 1.600.000 impianti a fonti rinnovabili il che determinano la generazione elettrica nel nostro Paese molto distribuita quindi le rinnovabili devono essere accelerate bisogna fare ancora semplificazione del permitting devono essere sussidiate bisogna correre il PNIEC, la revisione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima pone al 2030 una capacità aggiuntiva di installazione di circa 75 gigawatt di cui 50 il fotovoltaico che sarà la tecnologia trainante ma le rinnovabili soprattutto fotovoltaico e eolico presentano delle criticità hanno bassi costi di produzione ma hanno alti costi di non produzione quindi necessitano di essere accompagnati da due tecnologie abilitanti che sono le reti di distribuzione di trasmissione che presentano già delle caratteristiche di saturazione fisiche e virtuali e il PNIEC prevede un fabbisogno di 37 miliardi di investimenti solo sulla rete poi c'è l'altra la seconda gamba è lo sviluppo di sistemi di accumulo perché appunto fotovoltaico e eolico sono tecnologie intermittenti banalmente dipendono dalle condizioni meteo hanno un altro aspetto critico che fotovoltaico e eolico dipendono molto dall'utilizzo di minerali critici e terre rare e quindi comportano anche un problema geopolitico di spostamento del baricentro della geopolitica e quello che sta avvenendo in generale è che con fortunatamente un costo dell'energia che si sta abbassando siamo quasi diciamo vicini ai costi dell'energia elettrica degli anni pre-covid ma con gli altri costi dei materiali del costo del denaro farà sì che quei 75 gigawatt che dovremo installare nei prossimi 7-8 anni probabilmente gli operatori non andranno a mercato ma dovranno ricorrere a un mercato regolato con delle tariffe quindi queste sono le criticità e quindi le rinnovabili Tucur hanno bisogno di essere accompagnati da un baseload da un carico di base per garantire la sicurezza energetica che oggi è rappresentato dal gas che è un fossile ma se lo dobbiamo abbandonare gioco forza bisogna prendere in considerazione il nucleare ovviamente sto parlando di quello da fissione perché appunto se vogliamo rispondere alla domanda crescente di energia elettrica perché c'è in corso un'elettrificazione dei consumi se vogliamo ridurre la dipendenza energetica del nostro paese che in termini di energia elettrica era del 13-15% negli anni precedenti al 2023 ma lo scorso anno si è ha superato il 18% se vogliamo decarbonizzare e se vogliamo anche ragionare su una produzione di idrogeno di ola che dovrebbe dovrà sostituire la molecola gas perché non tutte le utenze possono essere elettrificate la manifattura italiana lo sta a dimostrare ecco che per affrancarci dai combustibili fossili un ragionamento serio ma il nostro paese il nostro governo lo sta facendo per rilanciare il nucleare perché ha il vantaggio di avere una prestazione continua ha un'elevata intensità una bassa intensità carbonica e ha un'elevata densità energetica grazie lei ha posto molti temi sul tavolo ce n'è uno che mi preme che è quello poi un tema più generale di adeguatezza del sistema elettrico cioè anche delle reti vorrei il punto di vista di Luigi Mazzocchi su questo grazie diciamo che gli interventi che ci sono stati hanno già evidenziato quali possono essere i pregi del nucleare in uno scenario di decarbonizzazione allora il tema dell'adeguatezza è un termine abbastanza tecnico che riguarda il sistema elettrico e vuol dire dobbiamo essere sicuri che in qualunque momento si possa alimentare diciamo i consumi italiani quindi questo è sempre stato un tema ma lo diventa sempre di più mano a mano che si ha a che fare con delle fonti come il sole e il vento che non dipendono da noi dipendono da eventi atmosferici che non controlliamo quindi ci siamo posti ovviamente la domanda noi facciamo tra le tante cose che fa RSI di tecnologia ma anche di studi facciamo analisi di scenario che vuol dire provare a simulare situazioni future non pretendendo di fare previsioni ma di dire che cosa succede se facciamo certe cose lo scenario 2050 dovrebbe essere uno scenario a emissioni zero cioè l'obiettivo italiano europeo è che eliminiamo le emissioni di nitride carbonica al 2050 a quel punto si ottiene un sistema che senza il nucleare fa ancora ricorso per un pezzo al gas ovviamente dato che vogliamo fare emissioni zero sarebbe un gas in cui le emissioni di nitride carbonica non vengono mandate in atmosfera vengono separate dai fumi e stoccate e magazzinate diciamo nel sottosuolo sostanzialmente allora ecco il sistema in questi termini è adeguato cioè avremo supponiamo 40.000 megawatt di gas ancora oggi ne abbiamo molti di più che lavorano anche tanto oggi produciamo 120 quindi 40% di energia italiana è fatta col gas a quel punto ne avremo molto meno sarà magari il 10% però quel gas ancora dovremmo usarlo se avremo una quota di nucleare prenderà il posto potrà prendere il posto di quel gas e quindi la domanda è ok il nucleare zero emissioni di idride carbonica questo è assodato è un dato tecnico noto si comporta come anche meglio delle rinnovabili costi di produzione diciamo competitivi paragonabili ai costi attuali dell'energia poi si può discutere il 10% più o meno ma siamo dell'ordine di quello che ci costa oggi la produzione mediamente in Italia e quindi cosa possiamo dire sulla convenienza che probabilmente eliminando quella quota di gas abbiamo due benefici uno che non dobbiamo mantenere in funzione tanti impianti che poi lavoreranno poco perché il gas avrà un costo variabile quello che dipende dalla produzione alto e quindi sarà confinato poche ore di funzionamento all'anno ma dovremo pagare lo stesso le spese per avere quegli impianti costruirli mantenere esercizio e due che non dipenderemo da un combustibile importato come attualmente e i cui rischi mi pare che siano evidenti anche dagli eventi delle ultime ore insomma quindi il nucleare da quel punto di vista è una fonte sicuramente meno rischiosa gran parte del costo di produzione è nell'impianto stesso che poi possiamo costruire noi con materiali che abbiamo l'acciaio il cemento cose che si producono in Italia e in Europa c'è solo il combustibile che viene importato però rappresenta una piccola quota in termini di costo e comunque si può importare da paesi diciamo affidabili come il Canada che ne ha grandi riserve senza contare che le nuove generazioni di nucleare avranno meno bisogno di combustibile perché saranno in grado di riprodurre combustibile mano a mano che usano l'urano naturale ecco lei ha parlato di costi c'è il costo di generazione però poi c'è anche un costo per il sistema perché il sistema Italia è chiaro che se va soltanto rinnovabili e gas dovrà fare determinati tipi di investimenti come sono questi investimenti rispetto a un sistema in cui ci sarà anche il nucleare ecco questo qui è un tema su cui magari poi ci soffermiamo nel secondo giro anche con altri con altri redattori io vorrevo adesso invece il punto di vista di un'impresa perché prima Spada giustamente sottolineava l'importanza dell'approvvigionamento di energia elettrica al giusto prezzo per le imprese lombarde il dottor Pasini dice io posso mettere tutte le rinnovabili che voglio sui miei impianti però poi ho bisogno di un'energia elettrica continuativa e quella lì me la può dare diciamo il nucleare me la può dare sì assolutamente noi abbiamo bisogno di energia base load noi lavoriamo intanto noi siamo un'azienda cirurgica che come la maggior parte delle aziende italiane ci sono circa una trentina stabilimenti fonde rottame quindi materiali circol per produrre acciaio e nelle due accierie che abbiamo in provincia di Brescia consumiamo un teravattore che è lo 0,3% in consumi nazionali quindi sono punti veramente di forte consumo di energia elettrica e tra l'altro stiamo cercando anche di anche noi di rendere sempre più elettrificati i nostri i nostri processi quindi stiamo pensando anzi abbiamo già realizzato in Italia su un laminatorio la completa elettrificazione del laminatorio prima in Europa quindi in futuro i consumi aumenteranno ancora ecco diciamo che noi però lavoriamo 24 ore al giorno 7 giorni su 7 e se non ci sono problemi di carattere commerciale una celleria lavora 7500 ore all'anno ecco quindi noi abbiamo realizzato abbiamo individuato una serie di progetti per rendere diciamo sostenibile il nostro mix di consumo quindi stiamo puntando sulle rinnovabili sull'autoproduzione e su dei contratti diciamo i cosiddetti PPA su dei contratti a lungo termine con con chi realizza gli impianti e per renderli bancabili ha bisogno di un cliente per che garantisca diciamo un flusso di di ricavi certi per ad esempio 10 anni però ecco diciamo che il fotovoltaico lavora 1500 1800 2000 ore l'anno arrodonando un po' e l'eolico che è una risorsa che tra l'altro l'Italia non ha particolarmente non è particolarmente ricca poco più di 2000 ore quindi c'è una discrasia ecco fra le 7500 e le ore in cui saranno disponibili rinnovabili discrasia che potrebbe essere coperta anche dagli accumuli ma gli accumuli lavoreranno non so quando ci sarà il raggiamento solare nel momento in cui il raggiamento non c'è ad esempio in inverno chiaramente non anche le batterie qualora fossero economicamente diciamo convenienti non daranno garanzia di poter alimentare un impianto siderurgico per cui sicuramente la fonte di una fonte di energia base load un impianto siderurgico è necessaria e nucleare si candida da questo punto di vista per esserlo tenendo presente che poi se si sviluppassero dei reattori i piccoli reattori di cui si parlava precedentemente si potrebbe anche pensare di mettere i reattori all'interno dei siti energy intensive in maniera tale da renderli autonomi e con ciò scaricando le linee di trasmissione di energia dai consumi abbastanza elevati e quindi riducendo nelle perdite e forse riducendo anche la necessità di fare qualche rete con tutte le problematiche di permitting che ci sono a riguardo ecco parlando proprio di SMR ha introdotto quello che l'argomento qui puntava un po' per la seconda parte della discussione passerei prima da Burtoni per chiedi secondo lei gli SMR sono una soluzione per l'Italia perché poi ciascun paese ha le sue specificità è inutile nasconderlo quindi magari la Francia si fa le sue grosse centrali noi abbiamo una conformazione morfologica una conformazione di tessuto industriale ma anche un'opinione pubblica diversa e quindi dobbiamo pensare ad altre soluzioni sì grazie ho dato la risposta devi fare la domanda comunque parto da questo la nostra tavola rotonda è nucleare sostenibile in Italia dietro questo aggettivo sostenibile è stato detto molto ovviamente si cela la sostenibilità climatico ambientale per la decarbonizzazione ma si celano anche altre due dimensioni quelle economiche e quella sociale e su queste due dimensioni quindi in particolare con l'Italia quelle relative all'Italia economiche e sociali dobbiamo stare attenti a non operare degli strappi strappi nel tessuto economico e sociale che nel nostro paese sono ahimè abbastanza frequenti e quando quando capitano sono abbastanza dolorosi lo diceva stamattina il presidente di Assolombarda è un paese il nostro paese il nostro stato in particolare non si può permettere certe cose vuoi per l'alto debito vuoi per certe considerazioni che abbiamo visto nel passato quindi dietro questa sostenibilità mi interessa oggi porre un punto di praticabilità del nucleare quindi per non fare strappi la praticabilità del nucleare insomma l'abbiamo vista io ero capo dipartimento energia al governo nel 2009 e 2010 quando facemmo la ripartenza una falsa ripartenza purtroppo del nucleare grande nucleare di stato quello che tu citavi prima come il nucleare francese grandi impianti in cui lo stato è costruttore oppure gestore imprenditore azionista di controllo anche semplicemente garante di ultima istanza di una filiera elettronucleare questo nostro stato lo stato italiano credo che non se lo possa più permettere dovemo essere realistici quando parliamo di praticabilità perché perché dietro il grande nucleare di stato ci sono ci deve essere una solidità ci deve essere qualcuno in particolare la nostra istituzione statale che si accolla rischi di ritardi nelle entrate in servizio lievitazione di costi di blocco di abbandono di progetti o di incompletezza della filiera nucleare una piccola parentesi quando parliamo di rientrare nel nucleare non stiamo parlando solo di riattivare o di costruire e gestire delle centrali ma dobbiamo immaginare che stiamo riattivando una filiera una filiera elettronucleare che non si ferma solo alla produzione ma certamente che coinvolge l'industria coinvolge l'industria di trasformazione finisce sicuramente anche nella parte della gestione del combustibile e dei rifiuti quindi un'intera filiera nucleare non è una cosa banale quindi chiusa parentesi non ci possiamo permettere come Italia questo grande nucleare di Stato quello che è la buona notizia è che è arrivata una filiera sta per arrivare una filiera abbiamo sentito stamattina di piccoli reattori piccoli in maniera relativa rispetto al grande nucleare di Stato sono cose da 300 400 megawatt di potenza una filiera una taglia che consente di evitare questi strappi o questi rischi di strappi consente di gestirli preserva questa filiera piccolina una una accettabile economia di scala perché è chiaro che non andiamo a costruire del nucleare per fare piccole iniziative frammentate o decentrate occorre avere una una scala tale per cui ci siano dei costi appunto di economia di scala ragionevoli puntiamo lo dice uno studio di Edison non dovrei citarlo io ma ho chiesto il permesso a Nicola Monti che al 2050 proietta una mix o comunque una percentuale di produzione elettronucleare pari al 10% che sembra poco in realtà è un validissimo ausilio al mix o alle percentuali delle fonti rinnovabili che ci aspettiamo al 2050 e se lo manteniamo al 10% possiamo consentirci anche di gestire un nucleare in maniera praticabile perché poi se arriverà la fusione non abbiamo investito come dire non abbiamo puntato al 100% su una una filiera di smr ecco mi scusi se la interrompo su questo tema chiedo all'ingegner Monti proprio per quanto riguardava l'adeguamento delle reti e tutti gli investimenti che sarebbero necessari resi necessari da una pervasiva presenza e sviluppo delle rinnovabili che risparmio abbiamo in quanto a mancati tra virgolette investimenti al 2050 lo dico io non lo dici tu parliamo al 2050 la nostra stima sono 400 miliardi di euro cioè un numero grande molto grande un numero grande a piacere ma questo fondamentalmente perché perché le fonti interrompibili vanno moltiplicate perché per garantire l'adeguatezza del sistema e la disponibilità di energia non potendo programmare il sole in vento io moltiplico le capacità di produzione poi noi abbiamo il baricentro dei consumi del carico elettrico che è nel centro nord Italia e le rinnovabili si svilupperanno prevalentemente al sud quindi tutta questa mole di sovrainvestimenti in produzione rinforzo delle reti in accumuli si tradisce in una cifra di qualche centinaia di miliardi di euro quando uno fa questo esercizio semplice che è una simulazione che abbiamo fatto noi poi non sarà corretta invece che 400 saranno 300 500 ma essendo un numero così grande risulta evidente che noi abbiamo bisogno per avere energia competitiva che serve alle imprese di avere una quota di energia programmabile e oggi non ci sono altre tecnologie se non il nucleare una quota potrà essere data dalla cattura della CO2 continuando a utilizzare i nostri cicli combinati ma probabilmente questa è una soluzione più temporanea perché poi gradualmente credo che dovremo abbandonare almeno all'orizzonte 2050 l'utilizzo del gas qui chiudo ma non spoiler io volevo proseguire con l'ingegnere Monti giusto un flash siccome poi si parla di ASMR a questo tavolo e voi siete coloro che in Italia stanno provando a intordurre gli ASMR in un consorzio con EDF con un saldo nucleare perché poi diciamolo nel senso gli ASMR sono terza generazione plus la quarta generazione è un'altra cosa e poi anche i tempi di applicabilità di queste tecnologie sono ben diversi perché una è il futuro prossimo l'altra è un futuro che si vedrà ne parlava prima Pasini l'importanza di un piccolo reattore per un'industria allora un piccolo impianto è in grado di produrre energia base un base load che è quello che serve ai consumatori energivori e va ubicato in prossimità di dove abbiamo i centri di consumo quindi questi saranno impianti che andranno inseriti in distretti industriali nel nord Italia non certo andranno messi al sud Italia per bilanciare l'interrompibilità dei rinnovabili parliamo di due cose completamente diverse quindi l'ottimizzazione si fa in questo in questo modo e avendo possibilità di produrre ovviamente l'obiettivo è quello di produrre a condizioni anche che siano economiche evidentemente è quello di fare dei contratti anche di fornitura a lungo periodo che diano visibilità a chi investe di un ritorno economico e anche a chi acquista di avere la garanzia di avere energia disponibile tutte le ore del giorno che servono a condizioni competitivi questo è l'obiettivo e infatti noi oltre ad avere questo gruppo di lavoro con come dicevi Ansaldo Nucleare e con EDF che ha una delle tecnologie oggi per gli SMR stiamo anche discutendo con associazioni di categoria di grandi consumatori perché abbiamo bisogno di mettere assieme quello che è la domanda con l'offerta e se mi permetti chiudo così poi non faccio più il secondo giro noi parliamo tanto di transizione ecologica e di obiettivi gli obiettivi sono chiari di decarbonizzazione ma noi abbiamo bisogno anche di associare una ricaduta industriale agli obiettivi di decarbonizzazione oggi stiamo facendo un primo percorso di traiettoria di decarbonizzazione che è basata su industria di importazione cioè noi i pannelli fotovoltaici e le batterie li importiamo dalla Cina ricostruire una filiera nucleare con tecnologia europea è una delle poche opportunità che abbiamo di valorizzare la tecnologia europea e anche le competenze della manifattura europea siccome partiamo ancora diciamo non dico da zero ma siamo agli albori ecco forse dobbiamo oltre agli obiettivi diciamo di Green Deal di mettere anche quelli di Industrial Deal per dare una ricaduta al nostro sistema industriale grazie io torneri da Pasini volevo fare una domanda da uomo della strada e dico vabbè ma a voi cosa interessa produrre acciaio col nucleare o col gas cioè bruciando il gas all'uomo della strada dice non cambia niente invece noi sappiamo che è diverso quando un'azienda come la vostra va a competere a livello internazionale su determinate gare su determinati contesti l'impronta carbonica del vostro acciaio fa la differenza ci spiega come si diciamo che siamo ancora agli inizi noi produciamo per esempio tondo per l'edilizia tondo per cemento o prodotti per l'edilizia li produciamo in Italia e in Germania e li sportiamo però dall'Italia in diversi paesi fra cui la Francia e non c'è ancora uno standard preciso a cui ci riferisce se la carbon footprint è il prodotto piuttosto che la dichiarazione ambientale di prodotto ma ci sarà poi prima o poi diciamo che in mancanza di normative in mancanza di una certezza del mercato il mercato si muove in questa maniera in maniera un po' caotica però proprio per arrivare ad un esempio concreto in Francia ci hanno chiesto di fornire del materiale con una bassa quantità di CO2 su tonnellata di acciaio prodotta diciamo dichiarata nella nostra IPD e ce l'hanno chiesta perché chi sta facendo un'opera pubblica ha un budget di aniride carbonica massima che può diciamo consumare o coi propri lavori o coi materiali che deve utilizzare per questa opera pubblica quindi tra l'altro sempre un altro cliente in Francia invece sempre in Francia qualche mese fa aveva chiesto che lo stabilimento dal cui partiva il tondo precemento normato fosse al di sotto di un livello IPD diciamo che per un produttore italiano è molto difficile raggiungere normalmente anche se è molto bravo e si consuma pochissima energia elettrica per unità di prodotto e alla fine perché parte diciamo riscontriamo questa situazione in Francia e negli altri paesi la riscontriamo ancora in maniera molto meno forte perché la Francia diciamo ha una pubblica amministrazione probabilmente attenta a queste problematiche ma probabilmente sono attenti anche le pubbliche amministrazioni italiane tedesca o di altri paesi diciamo che nel portare avanti queste tematiche porta avanti anche l'industria del proprio paese la Francia ha una produzione di energia elettrica ha dei consumi che sono coperti per più del 70% da energia nucleare quindi l'energia elettrica francese è molto più decarbonizzata di quella italiana basata sul metano che è ancora molto di più di quella tedesca che è basata invece in parte su carbone e lignite per non parlare di quella polacca che è un po' in Europa diciamo è quella che ha i grammi di CO2 per kilowattora prodotto più elevati per cui nel portare avanti delle logiche di sostenibilità la pubblica amministrazione favorisce anche l'industria e quindi diciamo il fatto di avere energia nucleare in questo momento sta favorendo molto l'industria sorgica francese diciamo a dispetto degli altri stabilimenti europei grazie la dottoressa Salvemini il costo del non fare il nucleare qual è? perché l'ingegnere Monti ci ha presentato il tema degli investimenti per adeguare la rete però poi se uno prende provo a vedere quello che è successo negli ultimi anni per esempio in Francia o in Germania si fa due conti magari qualche conclusione la trae sì io direi che diciamo noi non sappiamo ancora qual è il costo di non fare il nucleare perché appunto è una delle conclusioni a cui dovrà arrivare la piattaforma però non c'è dubbio intorno a questo tavolo ormai risulta abbastanza evidente che l'opzione nucleare è una questione di alleanza e una questione di rischio alleanza tra tecnologie cioè come può il nucleare giocare insieme ad altre fonti tipo le rinnovabili che non sono programmabili e che vantaggi ha rispetto ad altre fonti base load come il gas associato a CCS e di rischio nel senso che per fare per entrare nel nucleare per rientrare nel nucleare questo paese ha bisogno di tempo e però questo tempo diciamo man mano che ci avviciniamo alle scadenze diventa sempre più vincolante e allora oggi è una questione di oggi fare le scelte perché sono le scelte che comunque impiegheranno del tempo per produrre i loro effetti e se non le facciamo oggi rischiamo di avere un elevatissimo rischio in termini di proprio di valutazione di rischio quindi direi che una delle principali domande a cui dovrà rispondere la piattaforma sarà proprio quella di dire in termini di valutazione del rischio che cosa significa una decarbonizzazione senza puntare sul nucleare a prescindere dalla valorizzazione delle filiere europee comunque perché comunque nel nucleare noi abbiamo delle filiere europee mentre sulle fonti rinnovabili dipendiamo in larga parte da materie prime di importazione oltre che da prodotti finiti importati grazie dottor Origoni un flash sulla l'importanza di una visione di lungo periodo cioè iniziare a lavorare oggi per avere dei risultati domani o dopodomani perché poi se non si inizia oggi è mai assolutamente sì lo ripeto il primo sponso del nucleare sono i cambiamenti climatici la necessità di mettere a terra delle misure che rallentino l'aumento di temperatura del pianeta chi ha il nucleare i paesi che hanno il nucleare lo stanno rilanciando proprio per il tema della decarmonizzazione è un tema di competitività fortunatamente c'è un contesto internazionale europeo molto favorevole l'agenzia internazionale per l'energia dice che al 2050 serve almeno una quota del 10% nel mix energetico nucleare la COP28 ha ribadito ancora l'importanza del binomio triplicare al 2030 le rinnovabili ma con il contributo del nucleare anche il nostro paese grazie al governo sta facendo grandi passi la piattaforma italiana per il nucleare sostenibile voglio ricordare anch'io come nella proposta di revisione del PNIEC il nucleare è citato si parla di sostegno alla filiera si parla di SMR si parla di necessità di abbinare alle rinnovabili il nucleare si parla di mettere in campo dei progetti di cooperazione internazionale ed europea quindi questa di fatto è l'ABC per una strategia di medio e lungo termine è chiaro che servirà nel paese un dibattito serio e rigoroso scevro da pregiudizi bisogna fare cultura sull'accettabilità degli impianti nel nostro paese che non è mai abbastanza e dopodiché bisognerà il governo si sta orientando in tal senso a creare quelle infrastrutture di base l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ne caratterizza 19 cioè la disciplina legislativa il quadro regolatorio e soprattutto partire l'ha detto prima anche l'Onorevole Squeri da dotare il nostro paese di un'autorità che è assolutamente importante per questo sviluppo questa strategia grazie Burtoni lei prima ha chiarito secondo lei quale dovrebbe essere il ruolo dello Stato quantomeno in Italia quale dovrebbe essere quello delle imprese secondo lei quali tipo di imprese possono iniziare un percorso sul nucleare e con che rapporti di forza con chi poi il nucleare lo realizza sì prima dicevo che lo Stato non dovrebbe più fare opporsi di fare certe cose ma deve assolutamente fare in Italia almeno tre cose la prima essere uno Stato regolatore quindi non più imprenditore non può fare il grande nucleare ma deve fare le regole quindi come diceva Paolo prima istituire tutte quelle istituzioni che presiedono e definiscono la sicurezza nucleare per esempio che completano la filiera mi riferisco al deposito delle scorie nucleare e la terza cosa che deve fare lo Stato è promuovere questa produzione di energia nucleare appena ci sarà attraverso un sistema di incentivi il mercato elettrico lo consente almeno la riforma che in arrivo dall'Europa in questi giorni grazie agli amici francesi consente di poter incentivare delle bande di produzione nucleare il mercato deve fare la restante parte abbiamo visto prima dicevo prima che i rischi che può gestire il mercato vanno assolutamente gestiti da parte degli investitori quindi le grandi aziende energivore sono le migliori da questo punto di vista il nostro comparto elettro-siderurgico appunto dalla parola stessa o metallurgico italiano all'80% è consumatore di energia elettrica cosa che non è così per esempio in Germania hanno ancora una produzione siderurgica di acciaio basata sui fossili mentre noi abbiamo già l'80% della nostra elettro-siderurgia lo dice la parola stessa che ha bisogno di questa energia allora può essere che questa alleanza si diceva stamattina questa alleanza questo covenant tra degli operatori energetici che possono investire nei piccoli smr quindi nel piccolo nucleare con uno stato che fa da regolatore da promotore di questa energia e la parte di energivori che sicuramente cofinanziano nel medio-lungo termine 10-12 anni questa produzione di nuova energia nucleare credo che questo sia un modello alla portata per l'Italia grazie e per concludere diciamo l'effetto indotto di un eventuale ritorno del nucleare in Italia vorrei giusto una battuta dal dottor Mazzocchi grazie diciamo che è stato già molto detto quindi avere una quota di energia certa disponibile in qualunque momento è un complemento che sicuramente ottimizza il mix energetico vorrei sottolineare un aspetto che non è stato trattato cioè consumiamo anche tanto calore qui abbiamo parlato sempre di energia elettrica in realtà c'è attualmente una quota di consumi non elettrici che è più della metà potrà pure diminuire naturalmente introdurremo le pompe di calore in maniera massiccia altre forme di efficienza energetica però avremo sempre necessità per il patrimonio storico anche che abbiamo non possiamo fare tutti edifici nuovi abbiamo anche centri storici abbiamo aziende che consumano calore per produrre in ambito chimico in ambito siderurgico in ambito carta cartone eccetera ci sono consumi di calore allora dei piccoli reattori dove per piccoli intendo quello che è stato detto non reattori da poche decine di megal ma da centinaia vuol dire introdurre un tipo di impianto che può essere anche localizzato abbastanza vicino ai centri di consumo e può avere la capacità di produrre quelle quantità di calore che oggi fanno i cicli combinati banale esempio a Torino c'è un sistema di riscaldamento molto sviluppato che in parte è alimentato da un ciclo combinato a gas da 800 MW quel ciclo combinato farà fatica a scomparire perché è molto economicamente remunerativo vende elettricità al mercato e vende calore agli utenti quindi sarà uno degli ultimi ma poi alla fine se vogliamo rinunciare a usare i combustibili fossili anche quello dovrebbe arrivare al momento del pensionamento e lì un reattore da 200-300 MW o due di questi farebbero esattamente la stessa cosa sfruttando con la massima efficienza l'energia nucleare sia per quel circa 35-40% che diventa elettrico e per l'altro 50% che può fare calore quindi questo diciamo che cosa produce poi produce anche una maggiore competitività perché se io sono il produttore energia che riesco a vendere un vettore energetico elettrico e un vettore energetico termico i miei costi sono uguali sostanzialmente e ho maggiori ricavi quindi posso anche stare sul mercato meglio grazie grazie a tutti voi siete stati fantastici sia per i contenuti sia per la sintesi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti